In studio, Catiuscia Carpentieri. Facciamo il punto. Il gruppo ha riferito di essere salpato da Sfax in Tunisia alle 22 di sabato scorso, un'ora dopo rispetto al primo natante naufragato con 34 persone a bordo, di cui 20 sarebbero dispersi. I sopravvissuti hanno riferito di essere originari di Benin, Camerun, Congo, Guinea, Mali, Sierra Leone e Sud Sudan. E poi c'è la barca di 7 metri sulla quale viaggiavano i 37 migranti originari del Burkina Faso, Costa Dovorio, Guinea, Mali e Sud Sudan. Aveva già imbarcato acqua quando alla vista della motovedetta della Guardia di Finanza alcuni degli extracomunitari si sono alzati in piedi per cercare, sbracciandosi, di chiedere aiuto. Ed è in quel momento che il natante si è ribaltato e i migranti sono finiti in acqua. Una donna che dovrebbe avere circa 26 anni è annegata. Le ricostruzioni sono state fatte grazie ai racconti degli stessi naufraghi che hanno riferito anche ad essere salpati alle 5 di domenica da Sfax in Tunisia ed aver pagato alcuni 600 euro, altri 800. E' il bilancio questo dunque di una giornata tragica per l'immigrazione che vede ancora una volta l'isola di Lampedusa al centro dell'emergenza con l'hotspot sovraffollato. Ci sono al momento oltre 1.500 persone a fronte dei poco meno 400 posti disponibili. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte. Quale conseguenza di altro reato dopo che è stato sbarcato a Molo Favarolo di Lampedusa il cadavere di un giovane emigrante sopravvissuti verranno ascoltati dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento che cercheranno di ricostruire cosa si è effettivamente accadute perché il barchino si è ribaltato ed è colato a picco. Stiamo parlando appunto di uno dei due naufraghi. Cambiamo decisamente argomento politraumi per un turista toscano che è caduto da una scogliera di Favignana. Soccorso alpino e speleologico siciliano e 82esimo CISAR dell'aeronautica militare in azione nell'isola di Favignana per un escursionista toscano rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una scogliera. Poco dopo le 14 l'uomo, un 44enne di Ponte d'Era in provincia di Pisa, in escursione con un gruppo di amici mentre percorreva un sentiero nella zona di Cala Rossa dove si trovano i resti di una cava a picco sul mare è scivolato cadendo sui gradoni per circa 5 metri. Nella caduta si è procurato i traumi al torace e alla colonna vertebrale, escoriazioni, contusioni e una sospetta frattura della spalla. Visto che non riusciva più a muoversi, i compagni hanno lanciato l'allarme chiamando il numero unico di emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l'intervento del soccorso alpino che per ridurre al minimo i rischi trattandosi di una zona impervia con condizioni meteo non ottimali ha attivato l'aeronautica militare con la quale vigio un consolidato rapporto di collaborazione. Dall'aeroporto di Trapani Birge è decollato un elicottero che ha imbarcato due tecnici del SAS per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell'incidente. Intanto i sanitari del 118 presenti sull'isola lo hanno raggiunto via terra e lo hanno immobilizzato sulla tavola spinale. I tecnici del soccorso alpino e dell'aeronautica lo hanno imbarellato e è stato a bordo dell'elicottero col verricello per sbarcarlo subito dopo nella piazzola dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Torniamo a parlare della preside della scuola Falcone. Daniela Loverde è arrestata ai bambini alla mensa, davano cibo scaduto. Quanto emerge dall'inchiesta della Procura europea che ha portato appunto l'arresto della preside e anche ai domiciliari il vicepreside, una dipendente di un negozio di elettronica. Intanto l'Associazione Nazionale Caponnetto si costituirà parte civile nel processo. Il cibo della mensa scolastica passava prima per il frigo della preside che decideva cosa fare agli alunni. Il resto se lo portava a casa e accadeva che gli alimenti, tenuti mesi nella stanza della dirigente della scuola Falcone, Daniela Loverde, arrestata venerdì per peculata e corruzione, andassero a male. Un'eventualità poco rilevante, visto che le docenti complici della preside cancellavano la scadenza e li propinavano lo stesso ai ragazzi. Emerge questo dall'inchiesta della Procura europea che ha portato all'arresto della donna, del suo vicepreside Daniele Agosta e della dipendente di un negozio di elettronica, Alessandra Conigliaro, che riforniva in esclusiva e in assegnazione diretta l'istituto di PC e tablet. In cambio la preside riceveva dalla donna regali. Nel verbale della docente della scuola Falcone, che ha denunciato la gestione illegale dei progetti europei, si legge che esiste una sorta di circuito consolidato, secondo il quale, se si rientra nelle grazie della preside, si ha vita facile all'interno della scuola, altrimenti si vivono ritorsioni che rendono all'interno del plesso la vita molto difficile. Nell'esposto si descrive ancora il clima che si respirava nella scuola, per anni citata come modello di educazione alla legalità. Tutto questo creava nella scuola un clima di pressione, a seguito del quale nessuno dei docenti contrastava la preside nelle sue decisioni, ha raccontato l'insegnante ai carabinieri e ai PM. La professoressa, poi trasferita in un'altra scuola, ha ritenuto tra l'altro che la dirigente, visto che i ragazzi disertavano i progetti europei e temeva di perdere fondi, raccoglieva le firme ad attività concluse. Daniela Loverde comparirà giovedì prossimo davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Verranno sentiti dal giudice anche il vicepreside, Daniele Agosta, e Alessandra Conigliaro, come la Loverde entrambi ai domiciliari. Secondo l'accusa, si sono appropriati di cibo per la mensa dell'istituto, computer, tablet e iPhone destinati agli alunni acquistati con i finanziamenti europei. Alessandra Conigliaro avrebbe regalato alla preside tablet e cellulari in cambio della fornitura alla scuola in aggiudicazione diretta e in esclusiva del materiale elettronico. Intanto l'Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie, Antonino Caponnetto, si costituirà parte civile nel processo che deriverà dalle indagini in corso nei confronti della preside ed esprime sconcerto e preoccupazione di fronte alla vicenda e alle imputazioni gravissime che si delineano a suo carico. Il GIP Filippo Serio ha disposto l'aggravamento della misura cautelare nei confronti di una funzionaria della motorizzazione arrestata a febbraio scorso insieme ad altri sette colleghi e tredici responsabili di alcune agenzie di disbrigo pratiche. Nonostante fosse ai domiciliari, la funzionaria, come accertato dagli investigatori, avrebbe continuato a comunicare con l'accusato nella stessa inchiesta di corruzione e accesso abusivo al sistema informatico è considerata il fulcro dell'indagine. La donna è accusata di aver attestato il falso dietro il pagamento di una somma garantendo la buona riuscita di alcune pratiche per il collaudo dei veicoli e facendo avere carte di circolazione illegalmente. Creare alternativa al monopolio di una sola compagnia all'aeroporto di Comiso è una delle questioni cruciali di cui si discuterà mercoledì pomeriggio in una conferenza di servizio indetta dal presidente della regione Renato Schifani. Intanto questa mattina si tindi protesta del PD nello scalo comisano per rivendicare migliori strategie a sostegno degli aeroporti minori. Sono giorni di attesa per l'aeroporto di Comiso, soprattutto per la necessità immediata di creare alternative al monopolio di Ryanair. Lo ribadisce il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che mercoledì pomeriggio sarà presente ad una conferenza dei servizi indetta dal presidente della regione siciliana Renato Schifani per discutere dei bandi relativi alla continuità territoriale, della situazione attuale dell'aeroporto, della possibile presenza di altre compagnie che possono operare nello scalo Piola Torre. Il primo cittadino interviene dopo l'annuncio di Schifani e di SAC relativo all'attivazione a partire dal 15 maggio delle nuove tratta aeree della compagnia Aereo Italia per garantire i collegamenti dello scalo Ragusano con Roma, Bergamo e Forlì dopo la cancellazione dei voli operati da Ryanair. L'attuale situazione dell'aeroporto di Comiso con la minaccia da parte di Ryanair di fatto messa in atto di abbandonare il nostro aeroscalo per decisioni che sicuramente non sono ricevibili da parte di nessuno ha indotto immediatamente la politica regionale in uno assieme a quella locale, su istanza anche dei nostri rappresentanti a rivolgerci immediatamente ad altri vettori aerei. Io dico che questo è già un inizio e soprattutto è una soluzione e noi non possiamo dipendere da una sola compagnia e oltre ad Aero Italia che ha già riproposto tre rotte sull'aeroporto di Comiso siamo in attesa di ora in ora di sapere della possibilità da parte di altre compagnie aeree di operare immediatamente già per questa stagione estiva dall'aeroporto di Comiso. E intanto questa mattina una manifestazione di protesta è stata indetta dalla PD nella sede dell'aeroporto un sit-in a sostegno dell'aeroporto i minori della Sicilia. Il deputato regionale del PD Nello Di Pasquale lamenta la mancanza di strategie e annuncia altre iniziative di protesta se non ci saranno sviluppi positivi per lo scalo comisano. Gli aeroporti minori in Sicilia non hanno una strategia complessiva al loro sostegno, manca. Il nostro impegno continuerà intanto in commissione di trasporti giorno 27 vedremo questo confronto con il governo noi siamo pronti a occupare anche l'aeroporto di Catania se non dovessero arrivare risposte concrete. Si chiude la vicenda di Casa Sicilia-Can la sentenza del 9 marzo emessa dal Tar Sicilia è passata in giudicato e diventa pertanto definitiva come comunicato alla Regione dall'Avvocatura dello Stato. La Absolute Blue non ha impugnato la decisione dei giudici amministrativi il Tar Sicilia aveva respinto il ricorso della società contro il provvedimento adottato dall'amministrazione regionale a seguito dell'accertamento disposto dal Presidente della Regione con il quale era stato annullato l'affidamento diretto delle iniziative di Casa Sicilia e aveva trasmesso gli atti alle procure della Corte dei Conti di Palermo con quella pronuncia era stata dichiarata la legittimità del provvedimento di autotutela perché la giudicazione era venuta senza gara in violazione del codice degli appalti. Si trovava a Pantellerie per una vacanza ma era ricercato su un mandato di cattura internazionale a seguito di un provvedimento emesso a giugno del 2021 dalla Corte Distrettuale di Tirana in Albania era stato dichiarato latitante con l'accusa di avere evaso il fisco. Era ancora in un hotel di Pantelleria da solo quando è stato raggiunto dai carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento di cattura internazionale e lo hanno condotto nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. L'uomo, trentenne palermitano, deve scontare cinque anni di reclusione in quanto accusato dalla magistratura albanese di essere responsabile di reati fiscali in danno di quello Stato. Il trentenne aveva pensato di trascorrere qualche giorno nell'isola per una vacanza pensava di passare inosservato sebbene ricercato su un mandato di cattura internazionale a seguito di un provvedimento emesso il 2 giugno del 2021 dalla Corte Distrettuale di Tirana in Albania. Era stato dichiarato latitante dal governo albanese con l'accusa di avere evaso il fisco. I carabinieri della stazione di Pantelleria con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia lo hanno rintracciato e arrestato. Un agente penitenziario è stato aggredito da un detenuto nel carcere Maresciallo di Bona ex Ucciardone a Palermo. lo dice il sindacato CNPP l'aggressione avvenuta a opera di un detenuto non nuovo a questi atteggiamenti sia fisici che verbali contro il personale dice il vice segretario regionale del sindacato Maurizio Mezzatesta fortunatamente l'intervento di altro personale ha scongiurato il peggio esprimiamo la massima solidarietà alla gente l'augurio di pronta guarigione l'agente è stato portato al pronto soccorso la prognosi è di cinque giorni e per fortuna non ci sono feriti a seguito di un incendio di un'abitazione in via della Repubblica a Monreale le fiamme si sono sprigionate nel primo pomeriggio di oggi al momento dell'incendio erano presenti due anziani coniugi che sono riusciti ad allontanarsi automaticamente dai locali della propria abitazione i vigili del fuoco intervenuti con quattro squadre hanno prontamente affrontato l'incendio limitandolo solo ad alcune stanze l'abitazione è inserita in un edificio di tre piani non ha subito danni tali da pregiudicarne la stabilità l'intero edificio è stato in via precauzionale evacuato dalle prime informazioni pare che le fiamme si siano sprigionate dalla cucina dell'abitazione e abbiano investito anche la sala da pranzo le ha fratturato due costole e ha aggredito i carabinieri che sono arrivati in soccorso a giarre i carabinieri hanno arrestato un 34enne che adesso si trova nel carcere di piazza Lanza non riesce a rintracciare l'ex della compagna per chiarire le rompe due costole è successo a giarre dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 34enne catanese per maltrattamenti in famiglia lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale è stato un residente di via Marsala a chiedere l'intervento del 112 per un'aggressione fisica in corso presso un'abitazione i militari dell'arma hanno trovato il 34enne che ancora è in forte stato di agitazione alla vista dei militari ha inveito verbalmente nei loro confronti e si è anche opposto al loro operato colpendoli con spintoni e calci dopo aver bloccato e allontanato l'uomo dall'abitazione i carabinieri hanno nel frattempo chiesto l'intervento di un'ambulanza per prestare le cure mediche alla compagna dell'uomo una 36enne del posto trovata in casa la donna visibilmente scossa si è presentata con il volto tumefatto in condizioni di evidente difficoltà respiratorie ed è stata successivamente trasportata presso il pronto soccorso di una struttura ospedaliera dove lei è stata riscontrata la frattura di due costole con una prognosi di 30 giorni l'azione violenta sarebbe iniziata per futili motivi poiché ha cecato dalla gelosia nei confronti della donna per via di un ex che lui non riusciva a rintracciare per chiarire e quindi avrebbe colpito lei la vittima ha poi raccontato ai carabinieri di avere subito in passato altri episodi di violenza fisica da parte dell'uomo denunciato per maltrattamenti in famiglie e minacce il 34enne si trova nel carcere di Piazza Lanza andiamo a Corleone dove questa mattina c'erano le massime autorità civili e militari all'intitolazione della tenenza della guardia di finanza a Corleone la tenenza è stata intitolata Francesco Losciuto medaglia di bronzo al Valor Militar mio padre era un uomo semplice generoso ligio al suo lavoro una persona che di generoso disponibile aiutava sempre chi gli chiedeva qualcosa sono fiera di mio padre lo ricorda così il padre Margherita Losciuto figlia dell'appuntato Francesco morto all'età di 77 anni medaglia di bronzo al Valor Militale al quale è stata intitolata la tenenza della guardia di finanza di Corleone un evento che ha visto la presenza tra gli altri del comandante generale della guardia di finanza Giuseppe Zaffarana la signora Margherita ha voluto ricordare in questo giorno così importante per la sua famiglia anche le persone che non ci sono più voglio anche ricordare le persone che non ci sono più mia madre Maniscarchi Gaetana mio fratello Antonino ed anche mio marito Baldolo Bue che anche lui sarebbe stato orgoglioso di questa grande onoreficenza che è stata data a mio padre grazie papà per esserci stato una giornata importante è stata definita dal comandante provinciale della guardia di finanza di Palermo il generale Domenico Napolitano ma è una giornata importante perché oggi per noi rappresenta un simbolo questa intitolazione perché questo edificio era riconducibile a Totò Riina e quindi per noi il simbolo della prevalenza della supremazia della legalità è un simbolo che è veramente per noi molto molto importante Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della polemica sull'intitolazione del liceo scientifico di Partinico alla memoria di Peppino e Felice Impastato ebbene Giovanni Impastato sabato pomeriggio è arrivato a Partinico per prendere parte ad un'assemblea pubblica organizzata dal locale circolo di rifondazione un'assemblea pubblica alla presenza di Giovanni Impastato fratello di Peppino e figlio di Felicia ai quali se la prefettura darà l'ok sarà intitolato il liceo scientifico di Partinico che attualmente porta il nome del senatore Santi Savarino e che è stato al centro di un'accesa polemica dopo che il comune si è frapposto parlando di iter non democratico e di operazione politica si è tenuta sabato nella sede del circolo di rifondazione comunista di Partinico intitolato proprio a Peppino Impastato ed è stato un momento importante di dibattito sulla questione relativa all'intitolazione del liceo e sui motivi che stando alle parole di Giovanni Impastato rendono ancora scomodi talvolta i nomi di Felicia e Peppino Giovanni Impastato ha ringraziato chi ha proposto l'intitolazione al fratello e alla madre e chi successivamente si è battuto per essa per mantenere viva la memoria quella che si è combattuta metaforicamente a Partinico per Giovanni è stata una battaglia di civiltà e di democrazia vinta dalla società civile e dall'antimafia mi auguro che al più presto si possa intitolare la scuola ha detto durante l'assemblea perché quella di mio fratello è una figura universale corale che appartiene a tutti coloro che pur facendo parte di culture diverse sono uniti dai valori della nostra costituzione un pensiero poi per mamma felice ha definita una donna e una mamma straordinaria molto coraggiosa che ha anteposto la giustizia alla vendetta se oggi parliamo di Peppino ha concluso Giovanni Impastato e grazie a lei che non si è mai arresa finché non è stata fatta piena luce su quello che davvero è accaduto quel drammatico 9 maggio 1978 torniamo a parlare del caso della cagnolina Chira morta a Palermo a causa di una presunta torsione gastrica adesso scende in campo la responsabile regionale dell'ufficio garante dei diritti degli animali Laura Girgenti che si è rivolta ai suoi regali e annuncia un esposto alla procura sul caso di Chira la cagnolina morta a Palermo dopo che due cliniche veterinarie private non hanno prestato le cure necessarie perché il padrone Mirko non poteva pagare si registra ora la presa di posizione della responsabile regionale dell'ufficio garante dei diritti degli animali Laura Girgenti che vuole capire cosa sia davvero successo e si è rivolta ai suoi legali abbiamo deciso di fare un esposto con segnalo alla procura della repubblica per chiedere un'indagine seria un'indagine ben articolata che possa fare chiarezza sui fatti se è vero che esistono delle riprese delle videocamere di sorveglianza a questo punto anche noi vogliamo la verità io penso che saremo pronti al deposito entro la settimana qualunque sia la verità che emergerà di certo la triste storia di Chira ha fatto emergere un problema grave ed innegabile le cure troppo costose i costi che praticano le cliniche sono veramente troppo alti sì loro si giustificano dicendo che sono cliniche private che non hanno sovvenzioni da parte di nessuno per carità questo è tutto vero ma non è normale chiedere circa 100 euro al giorno per un ricovero io stessa mi sono ritrovata l'anno scorso a dover pagare 600 euro per soli tre giorni di ricovero per un gatto e me lo hanno restituito addirittura senza diagnosi c'è di fondo una questione che va discussa anche col Ministero della Salute un bene di lusso pur considerando la giurisprudenza dell'animale come un componente della famiglia quindi c'è qualcosa che non va brevissima pausa pubblicitaria tra poco bentornati in studio parliamo delle amministrative a Catania e delle novità previste appunto per le amministrative di fine maggio a Catania è ancora tutta in fermento la campagna elettorale a Catania in vista delle amministrative di fine maggio Riccardo Tomasello ha ritirato la propria candidatura sindaco di Catania appoggia con il movimento e la lista è l'ora del popolo la coalizione che sostiene Maurizio Caserta l'area progressista con Movimento 5 Stelle LPD Sinistra Italiana Europa Verde Forum Civico Catania può lista bianco con Catania gli altri candidati a sindaco sono Enrico Trantino Gabriele Savoca per Sud Chiama Nord Lanfranco Zappalà candidato civico Giuseppe Lipera Giuseppe Giuffrida anche loro con liste civiche e Vincenzo Drago con il partito socialista democratico italiano Andiamo a Scicli con l'annuncio della creazione della prima casa famiglia pubblica per randaggi in Sicilia è stato avviato il progetto civico ed artistico nel segno del patto antico il cane con l'uomo 10 gli artisti e le opere in campo per la difesa degli animali nascerà una casa famiglia pubblica per cani in randaggi e sarà la prima in Sicilia grazie ai fondi statali la casa nascerà a Scicli l'annuncio è stato dato nel corso di un convegno sui diritti degli animali che ha visto anche la mostra d'arte nel segno del patto antico il cane con l'uomo ideato e curato dalla critica d'arte Elisa Mandarà affiancata nel comitato promotore dal resiurato Claudia Marotta Franca Rita Russotto e Rita Trovato Elisa Mandarà intende rilanciare l'attenzione sulla tutela degli animali anche attraverso donazioni che possano sostenere le ingenti spese quotidianamente sostenute dalle volontarie per il recupero dei cani sul territorio il ricovero l'iter sanitario la promozione delle adozioni con queste finalità dieci importanti artisti blei hanno aderito all'iniziativa realizzando opere che rappresentano il patto millenario tra uomo e cane di cento litografie straordinariamente belle dieci per ogni opera esposta alla mostra che andranno a colmare le ingenti spese che tutti i giorni sostengono le associazioni la notizia della nascita della casa famiglia per randaggi ha suscitato grande interesse e speranza tra gli amanti degli animali poiché rappresenta una svolta importante nella lotta contro il randaggismo la casa famiglia per randaggi sarà un luogo sicuro e accogliente dove i cani potranno vivere in attesa di trovare una casa adottiva saranno curati e assistiti da personale specializzato e volontari che si prenderanno cura del loro benessere fisico e psicologico la battezzare un'iniziativa che vuole legare il buono al bello il mondo del volontariato alle istituzioni ecco battezzarla con una notizia straordinaria una casa di accoglienza per i cani davvero rappresenta un crisma per la nostra iniziativa e adesso parliamo del lungo ponte del 25 aprile boom di partenze la meta più in vita è la Sicilia c'è ancora una volta la Sicilia tra le mete preferite per il lungo ponte del 25 aprile sono molti turisti stranieri che scelgono la nostra regione per trascorrere qualche giorno di relax tra arte cultura enogastronomia e paesaggi naturali assai apprezzati e sono anche molti siciliani che si stanno mettendo in viaggio molti scelgono di rimanere nell'isola altri preparano le valigie con destinazione città d'arte ma anche le capitali europee qualcuno sceglie e mete a lungo raggio boom di partenze boom di arrivi questo ponte il 25 aprile fa gola ai turisti assolutamente sì abbiamo praticamente tutta la Sicilia fully booked quindi completamente piena siamo contentissimi ovviamente perché vengono da noi ma anche noi grazie a Dio abbiamo molte persone che stanno partendo i siciliani dove vanno? prevalentemente anche in Sicilia ma fanno soprattutto le capitali europee lungo raggio? e Sharm el Sheikh che hanno abbiamo ripreso grazie a Dio i voli e quindi Sharm Dubai l'Egitto in genere molto molto gettonato si sono conclusi ieri a Modica tra fede e folclore i festeggiamenti in onore del patrono San Giorgio è terminata a tarda notte poco prima delle due la festa di San Giorgio patrono di Modica i migliaia hanno preso parte ai festeggiamenti esterni iniziati con la trionfale uscita poi la risalita verso la parte alta della città di Modica con ballariate lanci di petali dei balconi e grande partecipazione popolare prima tappa la società operaia Carlo Papa e Piazza Santa Teresa poi il trotto del simulacro spinto sino a San Teodoro novità del percorso immancabile Sant'Antonino poi il consolo dove a portare il simulacro è stato anche il parroco della chiesa Don Michele Fidone per lui la prima festa di San Giorgio dopo il consolo l'emozionante tappa di Nino Baglieri la casa di quello che in città si chiama il Santo di Modica e per cui è in corso il processo di beatificazione poi la carica si è spinta a Piazza di Santa Maria del Gesù ex carcere di Modica con la tipica sosta per mangiare scacce uova sode poi l'ingresso all'oratorio San Domenico Savio un collegio con l'esposizione dei bambini a simulacro da lì la via Loreto Gallinara per poi rientrare al pizzo la terrazza che si affaccia su Modica da lì la processione si è spostata nella parte bassa della città al quartiere Vignazza l'accoglienza dei tifosi del Modica Calcio poi l'arrivo e l'ingresso a Santa Maria di Betlem per poi procedere alla carica da Piazza Monumento verso Piazza Matteotti in lungo Corso Umberto la risalita ma passando per la chiesa di San Pietro l'arrivo del simulacro al Duomo è stato sancito dal tradizionale spettacolo pirotecnico poi la risalita della scalinata i giri tra le navate le uscite e la fine dei festeggiamenti un evento che ha preso vita sulla nostra rete raccontato da Marco Scavino e Viviana Sammito la messaggeria ha ricevuto video messaggi ed sms da ogni parte del mondo Tokyo Texas Monaco Portofino Milano Torino Roma e Perugia per citarne alcuni un grande evento di fede e folclore Chiudiamo qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci scelto e vi auguro una buona serata e buon proseguimento su Video Mediterraneo Grazie a tutti